La famiglia di Kaila è arrivata, è una famiglia numerosa, ti piacerà molto. Iniziamo a conoscerla attraverso questa scheda. Ecco la nuova famiglia di Kaila! Benvenuta Nur, papà Marco, Pio e Francesco e la mamma Samantha. E allora Nur, emozione? Abbastanza. Kaila è un cane meraviglioso. Sì, l'abbiamo visto in foto. Non vedo l'ora di averla a casa. Come mai avete deciso di adottare questa meravigliosa cagnolona che noi abbiamo già conosciuto e che vi piacerà molto? Allora, noi abbiamo sempre avuto animali in caso di tutti i tipi, gatti, cani, conigli, furetti. E da due anni ci mancava un qualcuno a quattro zampe. Abbiamo deciso di cercarla e fortunatamente la madre di una mia amica è in questa associazione anima meticcia. Sei contento di questa scelta? Hai sentito che abbaiato? Io ho detto arriverà ed è arrivata. Allora Kaila, forza! Dal tuo papà, dalla tua mamma, da Nur. Eccoci qui! Vedete un nuovo membro della famiglia che gioia porta anche in una ragazza come Nur. E papà sei contento? Hai fatto felice tua figlia? Sì! Davvero! E avete fatto una grande cosa Nur perché lei col passato brutto che ha avuto oggi avrà una nuova vita amatissima in casa vostra. E allora questo è il senso della nostra trasmissione, una nuova amicizia, un nuovo amore, una vita salvata. Io vi lascio con la vostra meravigliosa cagnolona che immagino che dormirà con te. Certo! Neanche a dirlo. E ora mandiamo in onda un servizio dedicato agli ospiti più simpatici del nostro class Stella del Nord. Quelli con le lunghe codone, i baffetti grigi, le pancine rotonde, i nostri scoiattoli.